Bella ragazzi e benvenuti di nuovo sul mio canale Dunque oggi 28esima puntata di Assassin's Creed Valhalla Abbiamo un'altra volta lasciato, diciamo l'ultima missione era alla fine dello scrigno Dobbiamo raggiungere l'archivio di Jorvik Quindi ci portiamo a finire la missione e a uccidere un altro membro dell'ordine Io intanto nelle missioni secondarie ho portato avanti i talenti di Eivor Ok siamo arrivati al livello 156 E niente vi lascio al video ragazzi mi raccomando non cambiate canale Allora rieccoci vedete in schermata siamo sempre a Jorvik Dobbiamo arrivare diciamo all'obiettivo che si trova a circa 260 metri Quindi ci vediamo l'arrivo Ok passiamo di qua, partiamo di là, facciamo di su, facciamo di giù Dunque eccoci arrivati all'archivio Dobbiamo parlare Ok stanza a sinistra dove si riuniscono i consiglieri A riporta Forse ci sono gli consigli Ok Simile a quello nelle fognature Il sigillo che hai preso al lago Non credi che qualcuno possa aver rubato Cerchiamo ancora Ok qua ci dovrebbe essere qualcos'altro Questo scrittoio Ho l'impressione che sia stato spostato È lo scrittoio di Jor È pieno di argento Quindi consegnare a mercato Coppergate Ho bisogno che sia tutto fuso Se necessario ne procurerò ancora Mia moglie non deve sapere nulla Ah 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 Qui Gatto ci cova Il pavimento è graffiato Lo scrittoio di Jor era contro quella parete Perché spostarlo? Ci sarà qualcosa dietro questa parete Ora vediamo Vediamo un po' Comunque è l'antisgamo eh Graffiato il pavimento Tutto quanto Non si vedeva comunque L'entrata segreta era nascostissima proprio Allora andiamo a vedere l'entrata segreta Vedi? Nambere Allora cosa c'è qui? Esamina Qui c'era del vino L'hanno portato via in fretta Qualcuno ha tolto del vino da qui E la stanza odora di mandorle Forse il vino è stato avvelenato Credo sia il vino per la festa di Yule Pensi che qualcuno nel consiglio Voglia uccidere tutti quanti? Così sembra Non è lui Non il mio Yor Non lo farebbe mai Lui Rimani concentrata Quando avremo tutte le prove Penseremo a Yor Ora dobbiamo raggiungere la festa di Yule La gente è in pericolo Hai ragione L'anfiteatro romano Andiamo Ok quindi abbiamo appurato Che il vino è avvelenato Dunque dobbiamo correre Per quanto è possibile Visto che mi sto incastrando Alla festa Per andare a salvare Il più possibile delle persone Perché il vino è andato Alla festa di Yor Alla festa portata da Yor A quanto abbiamo capito La festa di Yule Dobbiamo correre velocemente Se ce la fa Tra l'altro non so se avete visto Che abbiamo cambiato l'arma Ma non ho più l'ascia Ma adesso ho la lancia Perché era molto più potente Quindi Ok Teatro di Yordic Quindi che dobbiamo fa? Ah dobbiamo aspettare lei? Dobbiamo parlarle? Parla ok Tu vedi il vino? No Allora siamo in tempo L'intero consiglio è qui Lo scrigno potrebbe essere chiunque Voglio che tu vada a cercare il vino Io parlerò con i membri del consiglio Cercherò di incastrare il colpimole Anche fosse Yor Anche fosse Yor Se è Liu Favina Ti ho sentito Solo Concedimi questo Confidati con me Prima di fare la tua mossa Lo farò Ok da quello che abbiamo capito Il marito di Liu Fina Quindi Yor E Dentro a tutto Ora devo parlare con i consigli Praticamente Dominerò il vino Quindi parliamo con i consiglieri Paravid Hai un momento? Ah Drengr Se vuoi offrire la tua lama La risposta è sì Uno come te ci farebbe comodo Contro i pitti Ne sono tentato Ma sono molto selettivo Nelle alleanze Ti piace bere? Se è una sfida La accetto Molto bene Tornerò con del vino Vino? Questa sfida va fatta con la birra Ci faremo un'idea ben chiara Su chi dei due sappia reggere meglio Dominerò il vino E osserverò la loro reazione Forse così arriverò allo scrigno Stiamo cercando diciamo Di far comparire la parola vino Diciamo nei nostri discorsi Per vedere le reazioni Dei vari consiglieri Ok? Quindi parliamo di nuovo Ah Odun Sembra che dopo tutto Tu abbia trovato i fondi per la festa Devi esserne felice Felice ancora non rende l'idea Guarda Guarda Sta andando tutto Oltre ogni mia aspettativa Presto la festa avrà inizio E questa gente Potrà finalmente celebrare come merita Brindiamo in tuo onore Vado a prendere del vino Oh no 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 Non posso accettare Ti ringrazio Il vino è per la gente Di Jorvik Ma quando arriverà Prego Serviti pure Ecco Avete capito Vedete che non vogliono bere il vino Quindi sanno perfettamente Che è avvelenato Ce l'ha offerto Ma non lo beve lui Jor Chi era? Eccoti qui Mi stavo preoccupando Non devi Sappiamo che lo scrigno è qui È qualcuno del consiglio Ne sei certo? Sì E quando saprò chi è Gli pianterò la mia lama nel cuore E sarà tutto finito Fino ad allora Devo indagare senza destare sospetti Mi serve il tuo aiuto Ma certo Cosa vuoi che faccia? Bevi e fingi di ubriacarti Cosa? Perché? Mi serve un diversivo Non devono fare caso a me Il vino arriverà presto Bevi tre coppe E poi fai la tua recita Non posso rendermi ridicolo Devi trovare un altro modo Fallo E basta Come vedete Non vuole assolutissimamente bene Andiamo prima qua Chi è? No andiamo prima qua Occhio eh Perché sicuramente Si sta stringendo il cerchio E se fosse lui? Ovviamente Cosa potevo aspettare? Lo farò portare via dai miei uomini Dovrebbe esserci altro vino Nelle mie dispense Manderò un uomo a recuperarlo C'è altro? È tutto Goditi la festa No allora A quanto pare Lui non c'entra nulla Andiamo a parlare con Liufvina Chi è lo scrigno Chi sarà mai? Non lo sappiamo No mi serve altro tempo Perché comunque Tutti e tre Non hanno voluto bere il vino Quindi comunque Secondo me Devo riuscire a capire Con qualche altra Prendiamo ancora Con qualche altro indizio No non posso parlare con nessuno Ma cosa faccio? Devo decidirlo io O Vedi i sospetti Fanno parte del consiglio No mi sa che No allora mi sa che Lo devo dire a lei Va bene Boh proviamo Ma secondo me il marito Poi magari mi ha sbagliato eh È arrivato il vino È mio privilegio Presentarvi i nostri onorati ostri Qui con me potete vedere I più illustri Lorde di Jorvik Uomini e donne Che hanno sorretto La nostra comunità In questi tempi difficili Sono lieto di poter dire Che oggi non celebriamo Solamente Iule Ma rendiamo anche omaggio Ai nobili Cioè tutti noi Dobbiamo così Il vino Lo scrigno è a Allora è tardi Non perdiamo la nostra occasione Unitevi dunque a me Mi era sbagliato Merda Ma cioè c'è riuscito Lasciate che vi dica Che cos'è la nobiltà Una condanna a morto E il mondo nascerà Un nuovo ordine Purtroppo nessuno di voi Vivrà per vederlo Porta i consiglieri al sicuro Io penso ad Audun Ok c'eravamo sbagliato Mi ero sbagliato Devo prendere Audun Penso che sia lui Il membro dell'ordine Ok a questo punto Fortissimo Eh a fuoco Però aspetta Dai no 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 Non mi fa fregare così Cacchio fai Ah ma buttati Ok questo l'abbiamo fatto fuori Ormai Dai che l'abbiamo fatto fuori Però che mi convinca tanto Questa lancia eh Dove cacchio è No l'abbiamo fatti fuori tutti Altissimi livelli Vedi No forse c'è ancora qualcosa O qualcuno Andiamo Ah è qua dentro eh Lama che conficca Sì Cosa speravi di guadagnare In tutto questo Quali ricchezze Giustificano tanto dolore E la morte di uomini E donne onorevoli Solo una mente debole Potrebbe mai chiamarli onorevoli Sono privilegiati Sedentari Compiacenti Un completo spreco Di risorse Le mie ricchezze Hanno rinforzato Il nostro potere Ho contribuito Al futuro Di un grande E glorioso Ordine Distruggendo persone oneste Mercanti Pre Nobili Senza distinzione Eivor Ti sbagli La tua Cosmologia primitiva Limita la tua mente Nove mondi Nell'albero No Nove volte Nove migliaia Di mondi E ancora Altrettanti Soli Nove notti Ho penzolato Dall'albero Sacrificandomi A me stesso Così Il saggio Circa saggezza Innumerevoli sfere Attendole Il nostro dono La nostra Illuminazione Io di voi Non solo Tu Pippi nel nulla Sbaglio O questa volta Non c'era Odino O dico una cacchiata In effetti Mancano Mancano Delle persone In effetti Allora un attimino Trova Trova L'Uvina E raggiungila Occhio Perché questa è scappata E a me già la cosa puzza Parla Pensavo Fosse scattata Per altri motivi Scappata Parla con Rixige Alla casa Del re Ok Ci dirigiamo Di nuovo Verso la casa Del re In modo Molto rapido Insomma Ancora dove sia La casa del re A 200 metri Quindi ci vediamo All'arrivo Ok Il re è qua Ma anche c'è fuoco Dappertutto Video Calmati Ma non potevo Ma non potevo rivelarlo a nessuno Questa setta può arrivare ovunque Vermeare le mura di ogni città Sono come vermi in una milaguasta Avrebbero divorato gli orbic dall'interno Se avessero potuto Ma tu hai impedito che accadesse Siamo in debito con te Stanne certo Jarl Halfton Verrà messo a corrente Se la minaccia è sventata Hai anche la mia gratitudine Sono ancora vivo E molti altri lo sono Grazie a te Vorrei nominarti Sovrintendente onorario Di Jordi Che vorrà Accetterai? Suona proprio bene È un onore, Lord È il giusto premio Pertanto È mio compito informarvi Che molto dell'argento incriminato Si trova sotto la città Esatto L'argento raccolto dal mastro di porto Come suggerisci di utilizzarlo? Senza risorse L'armata di Halfton Soccomberà ai pitti Sosteniamo la guerra Gli uomini di Halfton Ne rovesceranno le sorti In futuro Danesi e Sassoni Ci ringrazieranno Non ho alcuna obiezione A riguardo Così sia dunque Gior si assicurerà Che l'armata Riceva quanto serve Vieni Faradito Aiutami a recuperare l'argento Camminare mi farà bene Ok Buono, buono, buono Ottimo Abbiamo un detto indiano Solo i morti possono lamentarsi Noi siamo ancora vivi Potrei sempre lasciarmi sfuggire qualche lamentela sul re e sul tesoro Ma mi asterrò Hai agito bene Anche voi Se fossimo stati uniti forse avremmo impedito ad Harald di prendersi la Norvegia C'è sempre tempo No La Norvegia è il mio passato L'Inghilterra è il mio futuro E con questo Mi lascia Aspetta Aspetta Se mai avrai bisogno di noi Verrei Un'ultima cosa Ior L'argento sul tuo scrittoio Mi ha reso preda del dubbio Perciò devo sapere A cosa serve Credo che dovrò rinunciare alla sorpresa Ho commissionato a un argentiere un pegno d'amore per Liupina Un dono di Jule Brigante Ok Non era Allora non era Una talpa diciamo Alla fine era solo un pegno d'amore E niente L'abbiamo risolta così Quindi dalla fine dello scrigno Ok Concluso Due punti talento Che andiamo ad aggiungere immediatamente Allora Dobbiamo tornare da Ranvi E dare la buona notizia Appunto Quindi mettiamo subito un viaggio rapido E torniamo da Ranvi E andiamo a concludere La puntata Con Certo Domenico Andiamo a concludere la puntata Con questa informazione Dopo aver ucciso Uno dei Diciamo Dei membri Dell'ordine Ok ragazzi Allora Siamo arrivati Siamo Arrivati A Ravensthorpe Dobbiamo parlare Con Ranvi Dunque 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 Andiamo da Ranvi Che si trova Alla casa lunga Ovviamente Vedete che qui Prendiamo tutta la Successione Così partiamo subito Con amore Parla Ho appurato Ho appurato Adesso Adesso abbiamo Concluso Direi la puntata Però Quello che volevo fare È un attimino Vedere dove possiamo Portarci Dirigerci la prossima volta Vedi Mostrami La mappa Delle alleanze Vediamo cosa c'è di nuovo Ok Qua abbiamo fatto Tutto Praticamente Ma anche questa Sì Ci sarebbe Questa Ma potenza Stimata 250 Quindi è decisamente Tanto No Questa qua 130 Dunque Ora C'è Olbert Nello Scirof Sì Ed è In una Situazione Di Ok La Contea È Consumata Da Una Lunga Guerra Con Rodri Re Dei Britanni C'è Olbert Vuole Negoziare Una Pace Con I Britanni Dell'Ovest Un Compito Arduo Per La Sua Inesperienza Spero Abbia Fatto Tesoro Dei Tuoi Insegni Ok Nuova Nuova Missione Tra l'altro Abbastanza Semplice Perché Comunque 130 Noi Siamo A 160 Stremati Dalla Guerra Lui E Ivar Dovrebbero Essere A Quartford La Troverai Lungo Il Fiume E Con Afren Allora Trova Ceolbert E Parlagli Quartford E Nello Shirobshire Si Trova Tra Due Laghi Ma Perché Non Sto Fermo Ok Si Trova Da Due Laghi Lungo Il Fiume Afren Dovrebbe Essere Più O Meno Qui Credo Ok Va Bene Ok Ragazzi Dunque Torniamo a noi Abbiamo Concluso Un altro Abbiamo concluso Un'altra missione Abbiamo Soprattutto Ucciso Un altro Membro Dell'Ordine Ce ne rimangono Ancora Parecchi Quindi ragazzi Io vi saluto E vi lascio Alla Prossima puntata Ci vediamo Domani Con la Ventinovesima Puntata Se non sbaglio Ok ragazzi Bella raga E alla prossima Soprattutto